Benvenuti ragazzi su questo nuovo video sono Gian463Games e oggi siamo sulla top 10 dei giochi più horror mai visti Prima è Terasto Vaz che di sicuro conoscete tanto Ecco ma c'è un ospite che mi sono dimenticato di farvi vedere Sono io Sempre se si vede Vabbè se non si è vista ve la facciamo vedere alla fine Ok il primo è Terasto Vaz Ok se non sapete perché è horror della Sto Vaz Andate a vedere dei video Che basta che scrivete così Te last of us E' facile va No vi faccio vedere tutto sta cosa Allora Allora ora il gioco Aspetta che neanche vi ricordo Ecco Penumbra Penumbra E' il gioco Più Horror Penumbra Penumbra Questo gioco io non l'ho fatto Penumbra Perché è per Ecco Penumbra già faccia fa vigere Così a caso Faccio vedere dei video perché è horror Ecco Allora Allora Voi Non vi spaventate se facerebbe Un coso del Che 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 è Se facerebbe un coso del genere Sul Questo coso Guardate Guardate anche il pistolino qua Guardatelo Ora ce lo tocco Vediamo cosa succede Aiuto Non succede niente Ecco Ecco perché è horror E va bene Ora Questo era il video del secondo Ora Voglio farvi vedere Outlast Chi è Outlast O Outlast Che sto facendo Che sto facendo una serie ovviamente Outlast Outlast Yeah Questo gioco ovviamente è violento Perché voi sapete che è violento Perché avete visto i miei vici Che erano violenti Se non avete capito Quello che ho detto Io non ho capito neanche io Ma dai Andiamo Ok Non vi fa paura Se siete In corsi da Questo Bellissimo uomo Oppure Posso dire Acquisto un rap Xbox One Ma che Devo acquistare Che se io ce l'ho Questo gioco Vabbè È un gran gioco Vabbè Per quelli che si impressionano Non lo giocano Vabbè Ovviamente È un gioco horror Quindi sangue Appalate ci sono Ora C'è Non è un horror È una cosa normale Però è sempre horror Perché ci sono Jumpscares Allora Un Un Till 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 Ecco Until 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 Down Che si scrive Dove Da Oh no 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 Credo che si scriva così Se non si scrive Ecco Scritto Allora Ora Voi Ora Voi vedete un video Aspettate Vi faccio vedere Ecco Il trailer Ora Voi vedete Perché non posso vedere Questo video Perché non vuole vederlo Perché è troppo più lento Perché è così Perché non vuole Vado Bene Bene Vabbè È un gioco Che fa davvero paura Ma è un gioco spettacolare Però vi dico di non farlo Perché Un infarto vi viene Io sto gioco Non ce l'hanno Ma Presto Non lo comprerò Di sicuro Non lo so però ancora Se lo compro Perché è un gioco Molto passacello Per essere un gioco Va bene Questo era Ora Vi faccio vedere Uno che conosceranno In tanti Che ho anche detto La storia Allora Fiv 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 Ecco Fiv Sette Ni G T Fnight S Freddy Fre Fre Freddy Che 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 è Perché sono diventato Uno scecco In inglese Freddy S Fiv 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 Ok Fiv 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 Sì Non l'ho scritto Neanche Giusto Ma Eh Vabbè Ecco Questo gioco Perché fa paura Perché Non è proprio impaurente No No Allora giocaci Va Dall'apparenza Dall'apparenza Ora vediamo Sto video di Fabi Gio Vi faccio vedere L'apparenza Ora Ecco Ecco Per voi Questa cosa Non è Violente Non è Molto Horror Oh Va Bene Ecco Ecco Perché È Violento Se Non Credete Che Sia Violento Andate A Giocarlo C'è Per il Telefono Per il PC Per la Pestizio Ancora No Per mia Fortuna Perché Quando Uscirà Di sicuro Uscirà Lo giocherò E farò Anche Un video Se Uscirà Questo video E non Mi Vederete Più È perché Sarò Impaurito No Sarò Morto Di Cuore Quando Uscirà Per Parla Pestizio Ok Allora Dopo Tutti Questi Qua Ecco Ci possiamo Vedere Un Prossimo Video Con Questa Qua Forse Qualche Volte Qualche Volte Perché Di sicuro Domani Non ci sarà Domani Non c'è Scuola Non c'è Scuola Però Però Le ci piace La scuola Perché No Non è Non mi piace Tanto Quindi Se il video Vi è piaciuto Questo Sarà Di notte Infatti Lo metterò Ora Quindi Quindi Se il video Vi è piaciuto Iscrivetevi Allora Questo Coso Qua Che Di sicuro In tanti Hanno notato Che io non taglio qua Non sono un fantasma Sì Invece È un fantasma Che fa Film Horror Me lo fa Tenere a me Il Coso Vabbè Beh ragazzi Iscrivetevi Vi ammazzo Se vedete il video Iscrivetevi Mettete un pollicione Se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Mettete un pollicione E guardate La mia Pagina Facebook Ma io non c'ho Una pagina Facebook No Ce l'ho invece Però Non scrivete Gianli463 Perché È Giacomo Genovese E basta Vabbè Quindi se il video Vi è piaciuto Mettete un commento Scusate per la mano E ci vediamo A prossima Ragazzi No Non sono Stepney Vabbè Ciao